Io mi rifaccio ad alcune parole dette dal consigliere Poli questa mattina quando diceva gli impegni presi sono stati rispettati. In realtà su questo assestamento si alleggiano almeno due fantasmi o due fantasmi e mezzo. Uno è il reddito di cittadinanza, promesso per luglio di quest'anno, non pervenuto, a parte che questa mattina c'è stata una conferenza stampa per dire che forse si fa qualche cosa o forse anche per mettere una pezza alle dichiarazioni del Presidente Bonaccini che in questi giorni ha detto il reddito di cittadinanza a luglio e settembre cambia poco, forse per il Presidente cambia poco, ma perché aspetta quel provvedimento, che poi lo vogliamo capire perché è una social card in salsa Emiliano Romagnola, di questo ne discuteremo, ma perché in serie difficoltà economica o sociale e lavorativa da luglio a settembre molto cambia. Il microcredito alleggia perché quei tagli e questi della politica sono ancora lì fermi, non pervenuto, a parte un tentativo comunque apprezzato di passaggio in Commissione, però ancora tutto fermo, due milioni di euro fermi, un milione e mezzo nel 2017-2018 non ancora messi in previsioni e oggi aspettavo una risposta a un'interpellanza, ma purtroppo l'assessore cortesemente ha avvisato che non poteva essere presente e quindi anche qui rimandato a settembre. L'altra mezza promessa, Vitalizi, dopo averci bocciato tutto, adesso pare che stia arrivando un provvedimento e su cui dico mezzo perché effettivamente un'interlocuzione si è avviata, però anche qui ci sarà da discutere. Quindi non tutto è stato fatto, non tutto è stato promesso. Aggiungo brevemente anche il riferimento ad ordine del giorno che presentiamo che riguardano, e anche qui noi stiamo sempre sul merito consigliere Poli, non siamo solo polemici, il nostro compito è quello, uno di fare proposte e le proposte le facciamo e vediamo che anche oggi sulle nostre proposte, nonostante voi ce le bocciate tutte sonoramente, vedo che almeno abbiamo compattato le minoranze, anche le minoranze della maggioranza su diversi emendamenti, quindi non buttiamo lì cose a caso e quando ci incattiviamo come dice lei su alcuni aspetti è perché gettiamo luce su alcuni aspetti che secondo noi non vanno bene, gettare luce su alcuni aspetti in maniera polemica, non polemica, veda pure lei, aiuta la macchina regionale a funzionare meglio, questo è quello che pensiamo noi. Un ordine del giorno l'avevo già illustrato, gli altri due riguardano i bandi sulla partecipazione, è stato indetto recentemente un bando sulla partecipazione che però ha una scadenza molto breve, 30 giorni, scade dopo domani e abbiamo notizia che molti comuni avrebbero intenzione di partecipare ma non riescono a partecipare, effettivamente questo bando è stato pubblicato velocissimamente dopo un passaggio in assemblea e 30 giorni sono una scadenza veramente troppo rapida e siccome non può darsi che questo ordine del giorno ce l'ho bocciate, ne proponiamo uno più morbido, vogliamo dire, in cui almeno chiediamo l'impegno che per i prossimi bandi in generale si abbia attenzione che i tempi di pubblicazione dei bandi diano possibilità a tutti, soprattutto anche ai comuni più piccoli e meno strutturati, di partecipare a questi bandi, perché è un bando che esce all'improvviso senza un grosso preavviso e dura 30 giorni, non dà tempo a chi non è molto strutturato né di leggerlo né di capirlo né di poter intervenire. Quindi proponiamo un ulteriore ordine del giorno che per i prossimi bandi conceda dei tempi di lettura, di comprensione e poi di partecipazione. Grazie.